E' una cosa bella, una cosa bella bella Celluna, Celluna è una cosa bella Juventus non c'è niente a che fare con la cella Ma insomma, la doppia io però la Juve a sto giro La Juventus la prendi te De che stiamo a parlare? Del pronostico gameplay di Barcellona-Juventus Ritorno dei quarti di finale Ci invertiamo le squadre perché all'andata Il Barcellona ho preso io, la Juve l'hai presa tu Ma a sto giro però, visto che il risultato dice Che la Juventus ha vinto 3-0 Io devo difendere Io devo fare la remuntata ragazzi Vediamo che succede Chess però, 2017 l'abbiamo detto? Per forza, Chess 2017 Perché c'è la grafica Della Chess League Della Fregnions League Dai signora Vai Hai finito? Hai finito? Ancora non cominciamo Ciao Ciao raga Ecco, riesco a che salta sopra i cazzi quest'altro Ma stai a sentire che cazzo d'erò? Ciao Bella a tutti Mettiamolo Mettiamolo PES Chess 2017 Bar Cellona Juventus Che c'entra? Non lo so Cominciamo la partita Direttamente Cominciamo Dai Su Vai Vai Eccoli Mettete bene Che me scureggia Me scureggia la sedia Non me fa girare palle La sedia Tutta una parola però La sedia Tutto attaccato Conciuto come di controllo spalla Controllo spalla Cioè che vuol dire Fai Sì Vabbè Guarda come ha chittato A festa al camp Ragazzi miei Ma che spettacolo Io però c'ho un po' di timore Ma Airs Madonna Mi darà la carica giusta Vediamo Ci proviamo Analisi Luca Marcheggiani Marcheggi Fa i prelievi Ani Ani Guarda entrano La lascio un attimo Perché è bello Se vedono i giocatori Che girano Che fanno Che specorellano No È il Camp Nou Che è pronto A fare l'altra remuntata No Te do un cu No Assolutamente no Perché io c'ho la Juventus E difenderò Con le unghie Con i te Basta Mi sono tico Io ricominciamo Basta Così Basta Fuori Gio Mamma mia Mamma mia Come costruisce il Barcellona subito Te stavo per mettere le mani addosso Ma guarda che quanto C'era Non rompe le palle Ma guarda che quanto C'era Tre minuti di sofferenza Bene Perché qua Non mi ha dato tempo Non mi ha dato tempo Buono subito Neymar da solo Neymar da solo Neymar da solo L'appoggia per Suarez Che non tira Sto stronzo di merda Attacca dal cazzo Mamma mia Già Un'occasione e mezza Usciamo Niente Non riesco a uscire ragazzi È pericolosissima La situation La situation Si fa Pericolosi Guarda Drio Il Barcellona ci crede Ma su No Su Che cazzo hai parato Guarda come ho spazzato Cazzo hai parato Madonna Buona la palla in mezzo Suarez Non di testa Non di testa Spaccava Spaccagliela porta Spaccagliela surca La porta Ma che Ma che è sta roba Suarez Suarez Uno Dai E piassa Palla Vai a prendere la palla Ma non mi ha Rompere Sta palla Come si pia Ma che cazzo Stai a far Ma che è qua La palla Ecco Le pecorine Le ammucchiate Tu quello vuole che fa Guarda Se lo stanno proprio A gruppere là Guarda che roba Quello che prende la palla Quello che lo riportano al centrocampo Non so come sottiglia Quanto devi vincere Vabbè 3 a 0 Per i supplementari Ma che cazzo Io non ci ho capito niente Perché in pratica Il lancio è stato Adante subito De prima intenzione De prima intenzione Non sbaglia Questa venita ruttata Questa venita ruttata Guarda che tiro al volo Immediato C'è ancora due gol Di vantaggio E si abbracciano Se fanno Ma sta cosa Mi preoccupa Allora Mamma mia C'è il culo C'è il culo C'è il culo E' il primo tiro che hai fatto E che nezzo vuoi Il primo tiro che hai fatto Io sto difendendo Te lo ricordo Ma se io che sto attaccando Chi è questo No C'è un Miralem Me coglioni Allora guarda Mottefaccio No dei marra No mascherano Fregna No Sergio Roberto Che stai zitto Faccio fregna piccola Adesso Allora Capoccia Capoccia Eccolo Non so riuscire a prendere il giocatore Eccolo E' Mario E' Mario E' Mario Ragazzi miei guarda Ha fatto un gol Veramente esagerato Ma lo voglio rivedere Con calma Perché praticamente E' stato bello il cross E' il tiro Non ho preso il giocatore Buono per andare a saltare testa Non me l'ha selezionato Una sola parola Attaccate Ar Cazzo Non è una Sono tre Vabbè Eccoli Guarda Guarda come sono Specorella Gli piace Ma via gliel'ha buttato nell'ombelico Chiari Secondo me Sì Secondo me Vabbè Gioca Certo due tiri Hai fatto un gollo Ha parlato Guarda Guarda Ma guarda Che Si è sconciato qualcosa Mamma mia Tira Cazzo Butta via Va John Te metto un cross Con la capoccia Con la capoccia Vedeva da come è partito il cross Guarda che faccia È Mario È Mario Ten goal Ma che cazzo No Poi le devo fare cinque Ma come Allora Guarda Io ho visto da come era partito il cross Non c'avevo il giocatore in mezzo Cioè due gol così ho preso Mi sono eccitato come una femminuccia Te dico la verità Perché guarda Qua sono stato bravo Il passaggio Tu non c'hai capito una mazza Perché qua Pensavi che andavo diretto Mi sono girato Oh guarda che cross Guarda che camoccia Hai visto che si è fermato Mascherano Completamente fermo Perché maschera l'ano lui È per quello Non c'ha tanto culo Perché lo maschera Ma è saltato da solo Mazzuchic Ma che c'è Guarda come fa E sono derecchi No vabbè Non è che derecchi Le piaceranno le femmine Penso ma giocava 49 minuti 2 a 1 Juventus Al capo Sarebbe in tribudio Eh vabbè Non era per lui Tira Ma vaffanculo il palo Meno male Ma vaffanculo Che cazzo Meno male ragazzi Ragazzi Allora Vedi qua C'ho capito un cazzo Volevo far quadrato Poi lo scelterà Vabbè dai Era esterno Era esterno E buffone c'era Eh a me si si dispera Si pare che gli hanno cagato addosso Quei cazzo Dei capelli De merda Mamma mia Ma non volevo Dalla a lui Comunque va bene uguale Eccolo Mette se inserisco Ancora Ancora Gonzalo Tre Mamma mia C'ho la dipesa che va a puttane Che cazzo Se vanno a puttane Fanno altre cose Che non c'entrano niente con il calcio Prenderebbero le palle Prenderebbero le gol De merda Ma che cazzo Perché lo so Che ti piace Quando si partono Con i lanci Da centro Cazzo Yeah Guarda come tira il pugno Gioca Temo per la mia incolumità Temo per la Che cazzo Ma che tiro di merda Ma che ha fatto Io spero che non sia angolo Ma no che non è angolo Sei sicuro Sono sicuro Sì Questa è buona No che cazzo L'hai fatto Ma che ha fatto Dai io batto Ma come fa Aspettami Che sto buco Dai c'è Luigi Dai c'è Luigi E che cazzo Dai C'è ma non tiri Colpi di spade Mamma mia Se sta a creare il delirio In area di rigore Guarda là Guarda 89 Ma tu c'hai mira Ma che c'ha 88 Ma che vuoi E beh un punto in più è tanto Ma vaffanculo Ma facce tu Affanculo Che adesso Scapoccia via Bravo Gigi Bravo Gigi E adesso Vediamo che si può fare Vediamo che si può Ecco Dai Trasci Vieni E vai così Ragazzi Qui si termina Con un risultato Molto ampio Mamma mia 3 a 1 Al cazzo No Al cazzo No Io rilancio Perché ragazzi E' finita E' finita La Juventus Vincerà 3 a 1 E ti dico una cosa Che qualora Si ribaltasse Stavo a dire Ribaltasse il pronostico Come succede di solito Il Barcellona col 3 a 1 Non passerebbe comunque Dunque No Quindi Quanti like Prossimo video 2000 2000 like Facciamo un altro pronostico gameplay Sui big match Stai rosicato un pochino Porca puttana Si perché non ho partito tanto bene Ecco Stanno a far vedere il gol Il cinismo Guarda andiamo a vedere un attimo i tiri Un secondo solo 10 tiri a 5 5 tiri a 5 ragazzi I miei Ho tirato un portacomette Non rompi i coglioni Mo faccio come fai tu Uguale No infatti io sono stato impreciso Porca troia Eh no non rompere il cazzo Mi piace commentate con i miei video Iscrivetevi al canale Ci vediamo alla prossima Con un nuovo Ahia Pure a me Video Ciao Bella Che cazzo mi ti fa Vabbè